Musica Seconda edizione del nostro telegiornale Ben Trovati Ha individuato il branco di ragazzini e ragazzine tra i 14 e i 17 anni responsabili del violento pestaggio ai danni di un 27enne che passeggiava con la sua fidanzata in via Felice Paradiso nei pressi dell'area Com di Acireale Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato ad una settimana dalla brutale aggressione hanno ricostruito i fatti Il branco di giovani tutti minorenni composto da ragazzi e ragazzine di età compresa tra i 14 e i 17 anni avrebbe cerchiato e aggredito senza un apparente motivo ricostruisce la vittima a un 27enne in compagnia della fidanzata mentre passeggiava su via Felice Paradiso nei pressi dell'area Com di Acireale, luogo frequentato da decine di adolescenti specie nei fine settimana che alla sera si riuniscono in questo slago per momenti di svago e socializzazione un tempo sicuro e deviato in mano a facine rose e spacciatori in passato sono stati operati diversi arresti di pusher da parte delle forze dell'ordine ma non si erano mai registrati atti di violenza di gruppo così gravi un fenomeno in crescita che accomuna piccoli e grandi centri urbani, cattivi segnali di una società in sofferenza con giovanissimi protagonisti di aggressioni e pestaggi non casi isolati ma operati da bande organizzate composte da minori guidate da coetani pronte a tutto pur di definire i propri territori di appartenenza il 27enne si era vista davvero brutta grazie ad un passante che ha notato le scene ha allertato il 112 numero unico di emergenza prestante i primi soccorsi al 27enne malmenato dalla baby gang che avrebbe prima spintonato e poi prenderlo a calcio e pugni facendolo cadere in terra, proseguendo la loro azione delittuosa con sputi e altri calci e pugni nonostante la vittima avesse quasi perso i sensi dimostrando spregiudicata, ferocia e criminale il giovane conferite all'acero contuso e il volto tumefatto è stato trasportato in ospedale per le cure, ne avrà per dieci giorni la brutale violenza della banda di minori contro i 27enne è stata ricostruita agli investigatori della Polizia di Stato e del locale commissariato che hanno identificato due 14enne e 11 settembre a capo della baby gang segnalati alla Procura della Repubblica per i minori di Catania con il reato di lesioni aggravate in concorso rischiano una pesante condanna e intanto sono stati raggiunti da DASPO provvedimento emesso da questore di Catania e responsabile ai loro genitori che impone tra i minori coinvolti il diveto per due anni di stazionare nei luoghi dove è avvenuta l'aggressione per la loro pericolosità sociale la violazione della misura costituirebbe reato punibile da 1 a 3 anni di reclusione e la sanzione da 10 a 24 mila euro la posizione degli altri ragazzini tra cui anche alcune ragazzine partecipanti all'aggressione e adesso il vaglio degli inquirenti che stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona e non escludono di spiccare altre procedimenti ristrittivi nei confronti dei soggetti che avrebbero avuto un ruolo attivo nel violento pestaggio rimane un altro dato dai risvolti sociali preoccupanti alla scena hanno assistito decine di testimoni ma nessuno si è presentato in commissariato per testimoniare quanto è accaduto La procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio di 49 persone indagate nell'ambito dell'operazione Atena che riguarda indagini dei carabinieri della compagnia di Paternò sul clan Morabito legato alla famiglia etnea dell'Audania presunte infiltrazioni mafiose nella vendita all'asta di terreni e immobili i reati ipotizzati a vario titolo sono associazione mafiosa traffico e spaccio di sostanze stupefacenti turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso e corruzione tra gli imputati per cui è chiesto il rinvio a giudizio per voto di scambio politico mafioso ci sono anche il sindaco di Paternò Antonino Naso eletto con delle liste civiche nel giugno del 2022 un ex consigliere comunale ed ex assessore Pietro Cirino è un assessore della loro aggiunta in carica Salvatore Comis accusato di essere uomo di fiducia dell'associazione mafiosa il reato contestato ai tre è in concorso con due presunti esponenti del clan Vincenzo Morabito e Natale Benvenga questo pomeriggio Lars ha approvato all'unanimità il DDL anti-crack una misura a protezione anche e soprattutto delle nuove generazioni ha detto il governatore Renato Schifani C'è voluto un anno e mezzo per arrivare alla definizione del DDL anti-crack la legge ha come obiettivo quello di dare una risposta concreta all'emergenza dilagante del consumo di crack e di altre droghe a basso costo composta da 16 articoli la legge da una parte istituisce un sistema di prevenzione attraverso attività nelle scuole e nei quartieri a rischio dall'altra prevede l'assistenza per chi si trova già nel tunnel della droga Questa legge è un inizio un inizio intanto di metodo di ascolto di quello che c'è fuori da questo palazzo ma soprattutto un inizio anche di metodologia l'aiuto non può essere solo un aspetto come dire tipicamente sanitario in senso classico Il governo regionale ha stanziato 11,2 milioni di euro per finanziare le diverse iniziative 2,5 milioni saranno destinati alle unità mobili mentre 2,4 milioni andranno alle ASP di Palermo Catania e Messina 800 mila euro ciascuna per la creazione di centri di prima accoglienza altri 3 milioni saranno destinati alle restanti ASP provinciali per la stessa finalità 1,7 milioni saranno impiegati per attività di prevenzione nelle scuole infine 3 milioni di euro provenienti da fondi europei saranno utilizzati nel 2025 e 2026 per progetti di inclusione lavorativa dei soggetti assistiti un disegno di legge che parte del basso un disegno di legge che dà una risposta concreta a un problema che sta dilagando in tutta la nostra regione purtroppo infatti il crack è una droga utilizzatissima nei giovanissimi negli adolescenti e avere oggi in questo Parlamento il papà di Giulio tutte le associazioni che hanno lavorato i ragazzi che fisicamente hanno scritto il disegno di legge è una grande vittoria come Presidente di un gruppo parlamentare è un giorno che deve finire storico per questa legislatura tra coloro che hanno fortemente sollecitato l'approvazione della legge anticrack l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice in più occasioni ha denunciato la gravità della situazione in alcuni quartieri del capoluogo come Ballarò Rimanendo in qualche modo in argomento ci spostiamo a Catania dove un'area in campagna nel quartiere di Picanello era stata addibita a deposito di droga Un campo agricolo a Picanello per occultare un ingente quantitativo di droga è quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Catania nell'ambito di una specifica operazione per il contrasto al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 21 anni sono stati arrestati in flagranza la droga era nascosta in buste e borsoni circa 10 kg di sostanza stupefacente di questi 7 di marijuana 2 di hashish poi bilancini di precisione tutto occultato in questo fondo agricolo di Picanello al riparo da occhi e sguardi indiscreti secondo una prima stima delle fiamme gialle se la droga sequestrata fosse stata immessa nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato circa 80-90 mila euro i finanzieri controllavano quel terreno con dei ruderi sino a quando hanno visto all'interno dello stesso appezzamento due giovani uno di questi ha iniziato a rimuovere alcune pietre da un muretta secco mentre l'altro sembrava guardare attorno in modo guardingo a quel punto l'intervento delle fiamme gialle che attraverso le perquisizioni personali e dei luoghi hanno consentito il rinvenimento di oltre 70 buste contenenti in fiorescenze di colore verde può essere risultate marijuana per circa 400 grammi o un appanetto di hashish di 900 grammi successivamente è stato notato l'arrivo di uno scooter con due giovani a bordo che sono entrati sempre nello stesso agro per recuperare dei borsoni nuovo intervento della guardia di finanza che all'interno dei contenitori ha rinvenuto 17 panetti di hashish i bilancini e 7 kg di marijuana è sempre a Catania un 23enne teneva in casa cocaina e marijuana pronte per essere spacciate un 21enne catanese è stato arrestato dagli agenti della sezione falchi della squadra mobile di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente l'intervento dei poliziotti è nato dalla sospetto che l'uomo potesse nascondere droga nella sua abitazione siamo a San Berillo nuovo pertanto una volta cinturato lo stabile per evitare che il giovane potesse disfarsi della droga lanciandola dalle finestre i falchi hanno fatto irruzione nell'abitazione per eseguire la perquisizione i sospetti degli agenti si sono rivelati fondati dal momento che il catanese nascondeva in camera da letto un consistente quantitativo di droga conservata in due borcellini sia in dosi predisposte per la vendita sia ancora da frazionare complessivamente parliamo di 70 grammi di cocaina e 35 grammi di marihuana il 21enne è stato arrestato e posto ai domiciliari parliamo adesso di Divinazione Expo Siracusa apre le porte al G7 dei ministri dell'agricoltura di certo Divinazione Expo 2024 voluto dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare delle Foreste retto da Francesco Lollobrigida acceso il riflettore ancora una volta sulle tante esigenze emergenze ma anche prospettive che agricoltura e pesca storicamente legono al destino non solo proprio ma anche di una filiera che comprende produttori distributori commercianti utenti finali l'economia agricola e del mare è uno dei settori fondamentali per la nostra isola quindi avere centrato su Siracusa i riflettori non solo nazionali ma mondiali peraltro nel contesto di una stagione particolarmente travagliata per il mondo agricolo siciliano basti pensare alla siccità o alle proteste di allevatori e agricoltori che hanno aderito ai moti nazionali sul riposizionamento dell'intera filiera è certamente segno di grande attenzione ma adesso così come peraltro sostenuto dalle stesse istituzioni occorre tutti lavorare su un unico campo seguire la stessa direzione ovviamente con sensibilità diverse ma avendo ben chiaro l'obiettivo obiettivo che sarà posto sul tavolo del G7 Agricoltura dall'Italia G7 Agricoltura che si aprirà domani proprio a Siracusa assieme a Lollobrigida i ministri dell'agricoltura di Canada Francia Germania Giappone Regno Unito Stati Uniti d'America a loro si uniranno il commissario europeo per l'agricoltura la commissione dell'unione africana per l'agricoltura nonché i vertici delle tre agenzie ONU del polo romano si lavorerà su resilienza e sostenibilità dell'agricoltura e dei sistemi alimentari seguendo anche quelle che sono le aree tematiche prioritarie individuate dalla presidenza italiana scienza e innovazione in agricoltura per l'adattamento ai cambiamenti climatici le giovani generazioni come agenti di cambiamento in agricoltura il contributo della pesca dell'acquacoltura sostenibile alla sicurezza alimentare il contributo del G7 lo sviluppo dell'agricoltura nel continente africano tutto si lega alle richieste proprio anche del mondo agricolo isolano dunque il G7 siracusano potrebbe segnare un punto di svolta un capitolo fondamentale per l'agricoltura siciliana tenendo ben a salde le tradizioni ma guardando con fiducia al futuro a riposto adesso dove si aggiunge un nuovo tassello in termini di prospettive nella già intricata situazione che riguarda il primo bacino eccoli i pontili galleggianti e di finger al primo bacino di riposto che adesso la regione dovrà rimuovere dall'area che si apre davanti al mercato del pesce i cui cancelli per al momento restano chiusi grazie alla rimozione del sequestro che per tre anni ha bloccato il progetto per la realizzazione di opere volte alla riqualificazione del sito si abbatte uno degli ostacoli burocratici in un intricato iter che va avanti da dieci anni era il 2014 quando una violenta amareggiata staccò queste strutture per la seconda volta dopo i danni ingenti causati dall'evento meteo marino del 2009 un anno dopo il loro riposizionamento e nel 2020 l'appalto per spostarli definitivamente azione questa entrata in stallo con la conseguente denuncia da parte della magistratura per abbandono di rifiuti dei funzionari regionali solo lo scorso anno 17 pontili sono stati trasferiti a Lampedusa il resto lo vedete già c'è qui ancora per poco grazie ad una intuizione del legale dell'ente comunale che non è mai stato parte in causa e che ha permesso di anticipare i tempi di almeno tre anni noi non eravamo nemmeno parte offesa in questo processo con una sua intuizione siamo riusciti a entrare nel processo e di interloquire con il giudice perché il riposto non è costituito neanche parte civile quindi dobbiamo questo risultato all'avvocato io frida in passato sono state fatte più di un'istanza per il dissequestro e tutte sono andate a vuoto quindi o comunque non rigettate ma non hanno avuto neanche seguito comunque c'era un sequestro della magistratura c'è un processo in corso che non riguarda l'amministrazione ripostese questo lo voglio chiarire neanche quella passata i muri da abbattere spiega il sindaco di riposto Davide Vasta sono ancora diversi in vista di quella che sarà la nuova fotografia del primo bacino un pontile unico e opera annesse che favoriranno crescita e sviluppo per tutto il territorio anche sul fronte turistico io mi auguro di riuscire nel mio in questo mandato di riuscire a restituire ai cittadini quantomeno la fruizione appunto della passeggiata del primo bacino Alvia da oggi e sino a domenica prossima nella grande area espositiva di Sicilia Fiera Hey Sun Expo della transizione energetica L'Expo del Mediterraneo della transizione energetica Sicilia Fiera e la mega area espositiva di Mister Bianco ospita il meglio delle aziende nello sviluppo dell'energia pulita e rinnovabile taglio del nastro della tre giorni stamane alla presenza dell'ambasciatore del Kenya l'Italia sta sviluppando programmi spaziali nel paese africano come ha sottolineato il ministro per le imprese Made in Italy d'Orfo Urso in videocollegamento da Roma il polo fieristico ha messo insieme le eccellenze italiane della mobilità elettrica innovazione tecnologica di un segmento in forte espansione su cui l'isola rappresenta una piattaforma naturale nello sviluppo di progetti di impianti dell'energia pulita con aziende già presenti come la Tresanne nella produzione di pannelli fotovoltaici al taglio inaugurale tra gli altri l'ambasciatore europeo per il clima Ramon Viglia l'occasione ha offerto spunti interessanti anche sul piano della mobilità energetica auto e mezzi pubblici di nuova generazione il futuro del pianeta passa dallo sviluppo dell'energia pulita rinnovabile applicabile anche nel campo agricolo diversi gli incontri e i dibattiti in programma con i massimi esperti del settore studiosi della materia e i San Expo della transizione energetica ha ottenuto il padrocino dei ministeri identi collegati ad ulteriore riprova dell'importanza che riveste l'appuntamento etneo complimenti a Sicilia Fiere complimenti alla famiglia di Cavolo per aver fortemente voluto organizzare per la prima volta direttamente un evento di Valenza internazionale che porre l'attenzione su un tema quale è quello della transizione energetica di fondamentale importanza per il presente e per il futuro e anche per il nostro territorio Mister Bianco con il polo Sicilia Fiere si colloca tra le città fieristiche del Mediterraneo pronte ad ospitare altri eventi di portata nazionale ed internazionale è un segno che qui si polarizzano tutte le fiere di altissimo profilo come questa quella di Aysan abbiamo avuto il piacere di condividere anche con l'ambasciatore del Kenya alcuni spunti interessanti allora parliamo concretamente di transizione energetica tra il dire e il fare è meglio il fare quindi attiviamoci e trasformiamo la Sicilia nella più grande piattaforma perché il clima ce lo consente e perché questa è una terra tra le più belle del mondo il presidente di Sicilia Fieri Nino Di Caolo imprenditore che ha rilevato i vecchi stabilimenti della Costanza Costruzioni abbandonati da anni e restituiti a nuova operatività un riferimento certo nel campo fieristico del Mediterraneo Aysan oggi diventa un punto di riferimento per quello che è il mondo delle rinnovabili della transizione energetica Mobility Day tanti argomenti su quello che sono le auto elettriche mannelli fotovoltaici come diceva poco anzi il ministro anche sulla parte delle energie rinnovabili a mare quindi le olico offshore dove la Sicilia sarà pure protagonista e Aysan fa parlare di sé perché Sicilia Fiera vuole internazionalizzare e portare quindi tutte quelle che sono le aziende italiane ad obiettivi un pochettino più lunghi E a tal proposito la Sicilia regione baciata dal sole per buona parte dell'anno rappresenta una piattaforma naturale nello sviluppo di progetti energetici nel solare fotovoltaico ed eolico Dall'impianto fotovoltaico domestico a piattaforme in grado di catturare alla luce solare e produrre energia pulita per le esigenze di grandi comunità e imprese pubbliche e private ma anche nella mobilità i processi di produzione e le indicazioni legislative segnano la vera svolta nel campo della transizione energetica favorendo l'impegno di molti imprenditori e aziende ad investire in questo settore in continuo sviluppo che rappresenta il domani con applicazione in diversi ambiti il futuro dell'umanità passa dalla transizione energetica considerando l'esaurimento degli idrocarburi destinati ad esaurirsi nell'arco dei prossimi 50 anni secondo una stima ottimistica al rinnovabile legato il futuro dell'umanità e la tutela dell'ambiente da cui tutti noi dipendiamo la Sicilia è terra di sole un'opportunità da non lasciarsi sfuggire e su cui bisogna sviluppare programmi a medio e lungo termine sia in ambito domestico industriale che agricolo da qui le iniziative culturali formative ed informative di AISAN nella fiera della transizione energetica che rappresenta gli ultimi ritrovati del settore e le soluzioni innovative presenti nell'area espositiva per un futuro di cittadini, imprese e strutture istituzionali diciamo che la Sicilia è una di quelle regioni che per sua natura offre delle condizioni ideali per lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonte solare quindi da impianti fotovoltaici non solo per il suo raggiamento ma anche per il suo territorio abbastanza vasto una delle sfide che dobbiamo portare avanti tutti operatori e amministratori è quella di riuscire a incanalare le nuove costruzioni di impianti fotovoltaici con il rispetto del territorio esistente e anche delle attività ad esempio agricole che già esistono sul territorio siciliano Torniamo a Palermo per la presentazione dell'undicesima edizione dell'International Half Marathon Prevista una presenza record di atleti stranieri quasi 700 quelli provenienti dall'estero che si aggiungono a coloro che arriveranno da fuori regione saranno circa 1400-1500 gli sportivi che prenderanno parte all'undicesima edizione dell'International Half Marathon la manifestazione sportiva sostenuta dal comune e dell'assessorato regionale del turismo e dello sport in programma a Palermo domenica 20 ottobre con partenza e arrivo a Mondello è una manifestazione molto importante l'amministrazione comunale ha deciso di sostenerla e sostenerla molto bene è una di quelle manifestazioni che non è soltanto di natura sportiva è anche di natura sociale perché come ben sappiamo abbiamo il mondo paralimpico che comunque partecipa e poi è una manifestazione che ormai è a tutti gli effetti una manifestazione turistico-sportiva questa manifestazione oramai ha raggiunto livelli di partecipazioni notevoli per cui ci aspettiamo che anche in accompagnamento a questi atleti ci sia una presenza massiccia di persone che vengono a fare turismo nella nostra città sport di alto livello ma non solo stamattina nel corso della presentazione della manifestazione è stata annunciata una raccolta fondi a favore della sezione femminile della missione speranza e carità fondata da frate il Biagio Conte e anche la walkathon quest'anno la novità l'abbiamo spinta la stiamo spingendo assieme anche alla diocese di Palermo per dare anche un aiuto una quota a parte dei soldi che verranno incassati tramite le iscrizioni saranno devolute alla missione speranza e carità per quanto riguarda la raccolta fondi per una macchina da poter dare alle suore di questo ente oltre al traguardo della mezza maratona di circa 21 chilometri sono previsti quella della 10 chilometri Coppa Energia Italia e la cammarata sport walkathon sempre 10 chilometri non competitiva il telegiornale si conclude qui vi ringraziamo per averci scelto e preferito e vi auguriamo buon proseguimento di serata Grazie a tutti